Il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è un documento che parte da uno studio curato che ha registrato in un giorno feriale-invernale 244.900 spostamenti, dei quali 151.900 in automobile e quindi ben il 62%, mentre solo 55.000 tramite il trasporto pubblico, appena il 22%. È un documento strategico importante che verrà discusso in Consiglio Metropolitano nei prossimi mesi. È, tra virgolette, un piano guida per quanto riguarda i temi della mobilità su tutto, non soltanto il Comune di Venezia, ma tutta l'area metropolitana. Se fossimo in grado di efficientare il servizio di trasporto pubblico, questa passerebbe addirittura al 28%. Quindi c'è desiderio di trasporto pubblico, la gente domanda un servizio pubblico efficiente, magari con costi accessibili, magari con minori, con una semplificazione dell'abilitazione che deve essere un'abilitazione unica. Ben 68 sono le osservazioni pervenute, 500 i quesiti. Questo numero di quesiti dimostra che c'è una voglia di partecipazione, voglia anche di essere protagonista da parte di amministrazioni, enti locali, dei vari comuni o anche semplici cittadini. Il consigliere Rosteghin chiede quindi di valorizzare la voglia di partecipazione su questo e altri temi strategici tra i cittadini e nel Consiglio Metropolitano. Il PUM dovrà dare queste risposte così come sempre di più dovrà risposte anche nel Comune di Venezia, per esempio al tema sempre più attuale del moto ondoso.